Bentornati a Patchwork. Oggi creeremo insieme un portapiantine utilizzando una bottiglia di plastica. Primo passaggio creeremo le aperture per inserire le nostre piantine. Create le nostre aperture adesso passeremo a rivestire la nostra bottiglia con un cartoncino verde. Ho deciso di utilizzare un cartoncino verde in modo da dare alla mia bottiglia la forma di un bruco. Quindi passeremo a ritagliare i nostri fori. Adesso andremo a creare gli occhi e le antenne del nostro bruco. Grazie a tutti. Questo è il nostro bruco. Adesso andiamo a inserire le nostre piantine. Questo è il nostro portapiantine. Provateci anche voi. Potete utilizzare qualsiasi tipo di bottiglia. Vi aspetto alla prossima puntata di Patchwork con delle nuove idee. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.